Le elementari le ho fatte a scuola, le superiori le ho fatte nell'IVA. Il ricordo più lontano e quindi il primo che ho dell'IVA è legato al suono della sirena, che mi spaventò moltissimo. Sono poche le famiglie che non hanno avuto a Savona, almeno una persona, un parente che abbia lavorato nell'IVA o nel Talside. Quando è arrivato Calder, ha visto la scultura su, sulla porta della stazione, è rimasto meravigliato, il quale mi ha detto, l'hai fatta tu? Allora rasati! Allora rasati! Allora rasati! Allora rasati! Ahata!